Inaugurazione inusuale all'Università di Macerata, così è stata definita in conferenza stampa, perché in concomitanza dell'inizio dell'anno accademico e pochi giorni prima dell'inizio delle lezioni. Terza inaugurazione invece per il magnifico rettore John McCart, che nei suoi due anni di guida ha proiettato l'Ateneo sempre più verso l'Europa e ha ottenuto un crescendo di gradimento. Quest'anno un buon 20% in più di iscrizioni, un trend che porterà a Macerata oltre 400 ragazzi in più. È un'inaugurazione inusuale, nel senso che iniziamo l'anno accademico con l'inaugurazione, così come dovrebbe essere. Le lezioni partono quattro giorni dopo, per cui è secondo me il momento giusto per lanciare l'Università di Macerata per l'anno accademico 24-25, con questa inaugurazione intitolato Il valore della nostra Università europea. E qui vogliamo sottolineare che lavoriamo in un contesto europeo, che siamo attivissimi al centro di questa alleanza, European Reform University Alliance, di otto università, con cui stiamo costruendo dei percorsi di didattica, di ricerca e non solo, a beneficio di tutta la comunità nostra, ma soprattutto a beneficio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. E questo volevamo sottolineare. Avremo presenti i rettori delle università europee che partecipano nella nostra alleanza, avremo presenti i rettori delle università dell'Unihamu, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria, con cui collaboriamo pure. Per cui sarà una festa, sarà una celebrazione, sarà un momento di grande ottimismo in cui partiamo per l'anno accademico 2024-25. Partiamo con un incremento delle domande degli studenti al primo anno di più di 20%, per cui partiamo con fiducia e faremo di tutto quest'anno per trattare nel modo migliore possibile questi nuovi iscritti che arrivano da più parte d'Italia. All'inaugurazione, come di consueto, arriveranno personalità di spicco e ospiti illustri. Avremo presente la dottoressa Ilige Vantland, che è il Secretary General dell'International Association of Universities, che raccoglie più di 800 università in tutto il mondo e ha il polso, se vogliamo, della situazione mondiale delle università. E sarà lei a tenere la prolusione all'interno dell'inaugurazione, per parlare anche delle opportunità, sia per un'università come Macerata, sia per un'alleanza come Erua, le opportunità a livello globale, anche le difficoltà, che non sono poche. Insomma, viviamo in un contesto politico internazionale difficile.